Quello che voglio dirvi, in qualsiasi parte del mondo voi andiate con la vostra bicicletta fate sentire la vostra voce. Ci leggo a dirvi questo, ovviamente voi conoscete la storia della mia mamma e il fatto insomma che l'abbiate appunto, abbiate scelto di impegnarvi anche nel suo nome e questo mi fa piacere ma mi dimostra come siamo sulla strada giusta. Io e mia sorella con grande fatica, negli anni abbiamo deciso di prendere in mano questo testimone che è abbastanza pesante perché tante volte ci sentiamo anche inadeguate rispetto alla storia che ci portiamo dentro e soprattutto io nel momento in cui ho compiuto 33 anni io ho fatto 40 anni a giugno e quando io ho compiuto 33 anni che diventavo più grande della mia mamma, ho sentito l'esigenza, ero già in libera e già mi impegnavo ma a maggior ragione ho sentito l'esigenza diventando più grande di lei di dare un senso alla mia età e cercare di continuare a fare quello che a lei non è stato dato il tempo di fare. Scegliendo da che parte stare appunto un po' la scelta che avete fatto voi, io ho scelto di stare libera, sono stata responsabile di libera memoria nazionale, sono adesso responsabile di libera memoria internazionale nel senso che sono diventata referente di tutti i familiari delle vittime di mafia, cioè di tutte quelle persone che nel nostro paese sono tantissime hanno perso veramente per la democrazia e la libertà del nostro paese. che era la mia mamma che non era un eroe, non vogliamo ricordarlo come un eroe, citiamo sempre Brecht quando dice sfortunata la terra che ha bisogno di eroi ma ancora più sfortunata la terra che quegli eroi non li ricorda e non ne segue l'esempio, invece noi, voi insomma avete scelto di seguire l'esempio di Angelo Castallo, della mia mamma, di tanti altri che non ci sono più ma che in qualche modo continuano ad andare avanti attraverso il nostro impegno. quello che ci accomuna con lei che semplicemente ha esercitato il proprio diritto di fare il proprio dovere, perché è un diritto fare il proprio dovere e non è stata una persona che si è dozzata dall'altra parte, non è rimasta a guardare ed è quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche noi ed è bello quando incontro tante persone e veramente siamo in tanti, a volte siamo bombardati da esempi negativi, ma vi devo dire che sono tante, tantissime le persone, le realtà in Italia che veramente hanno il coraggio della denuncia e col proprio impegno, col proprio esserci, col proprio sentirsi noi, perché con io non andiamo da nessuna parte, ma costruire questo noi, questo essere insieme, veramente qualche passo avanti si può fare. di aver scelto anche come singolo di questa giornata di ricordare la mia nonna. grazie.